Chiara Ferragni è incinta, e il figlio si chiamerà Leone, oggi spara la conferma, dopo i rumor sulla gravidanza che girano dal festival di Venezia, per il matrimonio si parlava di Cremona nella primavera 2018, ma con l'erede in arrivo e meno. Chiara Ferragni è davvero incinta. Dopo settimane di rumors, è il settimanale oggi a dare finalmente la certezza, la fashion blogger darà un maschietto a Fedez. E la coppia ha anche già deciso il nome da dare al loro erede. . Si chiamera Leone il settimanale oggi, in edicola da giovedì 26 ottobre, racconta tutti i dettagli della notizia esclusiva. . Tanto da poter anticipare che Chiara Ferragni e Fedez aspettano un maschietto, e che si chiamerà Leone. . Oggi ha infatti raccolto le confidenze di un amico intimo della coppia. . 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